ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata delle interviste di dpcm project diamo potere creativo alla mente ricordiamo a tutti che dpcm project è un progetto che vuole creare fonti creativi ma soprattutto vuole conoscere la bellezza dei pensieri delle persone siamo irene fotografa maria psicologa e simona digital designer abbiamo voluto iniziare questa serie di incontri con un fotografo un ritrattista inusuale una persona che vogliamo conoscere efram raimondi vorremmo iniziare con una domanda fondamentale chi sei chi sono una persona che respira a volte sospende il respiro perché l'unico momento in cui tu ricordi il valore del respiro altrimenti diventa un automatismo quindi sospendo gli automatismi respiro a volte coscientemente a volte invece in maniera del tutto automatica a margine del tutto a margine sono un fotografo piuttosto trasversale ho sempre saltato il concetto di genere poi nel corso del tempo anche elaborato in termini di riflessione tutta sta questione qui ho iniziato molto presto come si usava insomma un tempo perché ho iniziato nell'ottanta fotografare in maniera consapevole avevo 20 20 anni 22 anni poi niente da lì è partito tutto tutto il resto quindi è partito tutto il percorso poi che è stato un percorso ed è tuttora un percorso con un unico unico motivo sulla fatidica domanda perché fotografa raccontare la mia storia senza nessun tipo di di la visione che ho del mondo tutto qui non ho messaggi particolari insomma salvo questo sì è l'unico motivo per cui io fotografo per poter in qualche modo esercitare proprio un vero e proprio arbitrio che è quello della mia visione e col tempo ovviamente lo sguardo matura anche se poi sono rimasto in qualche modo legato ai primi i primi passi che avevano anche degli elementi di ingenuità ritengo l'ingenuità un valore molto importante da educare ma importante assolutamente da non perdere questo sono bene e noi abbiamo tanto piacere di conoscerti ma soprattutto vogliamo sapere il tuo punto di vista sulla trasformazione dell'arte in questo periodo di quarantena che ha comportato per tutti un cambiamento sociale ed interiore e noi siamo molto curiosi di sapere il tuo punto di vista al riguardo ma io devo dire ci ho pensato a questa cosa in realtà anche guardandomi in giro non è che abbia visto chissà quali cambiamenti se non un una forte concentrazione in realtà sul covide anche dal punto di vista espressivo altro non ho non ho notato anche perché eravamo tutti più o meno concentrati su questo e forse anche altre cose insomma possono essere sfuggite non credo che ci sia stato in questo senso alcun cambiamento all'interno del mondo dell'arte perché tutto era poi ficcato lì dal punto di vista sociale poi entriamo anche nel merito di cosa è stata poi la produzione soprattutto quella fotografica in questo in questo periodo perché in realtà c'è stata una peculiarità che è stata in qualche modo esplosiva no e parlo proprio dell'utilizzo attraverso gli screenshot soprattutto non solo delle call ma anche delle delle telecamere dalle altre nelle altre parti del mondo eccetera 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 dal punto di vista sociale non credo che siano stati dei cambiamenti era una grande occasione secondo me da non perdere un tempo molto ristretto in realtà e se come dire l'incombenza vera era quella di tornare il più rapidamente possibile a prima il punto di domanda diventa gigantesco perché l'origine del problema è esattamente il prima per cui se vogliamo tornare al prima dove che è l'origine del problema siamo punto e a capo ma in peggio però non solo siamo punto e a capo cioè siamo veramente punto e a capo in peggio dal punto di vista sociale sociale bisognerà vedere che cosa accadrà anche nei prossimi mesi anche perché insomma non dobbiamo nasconderci una cosa soprattutto in italia soprattutto in lombardia siamo stati colpiti allora al netto di tutte le negligenze che ci sono state in lombardia c'è da dire che è arrivata non so come inaspettatamente perché insomma delle avvisaglie si potevano anche avere però è arrivata in una maniera spaventosa poi ci sono state tutte le negligenze che hanno aggravato la situazione quindi dal punto di vista sociale bisognerà davvero vedere che cosa succede perché senza adentrarmi in analisi sociopolitiche eccetera è indubbio che per due mesi il pianeta almeno da noi ha ricominciato a respirare io non ricordo un'area del genere mi sembrava di essere davvero in montagna uno questo è credo che non è neanche stato l'aperitivo in realtà perché abbiamo avuto dei precedenti non tanto tempo fa perché l'inondazione di venezia e l'abbattimento di milioni di alberi in meno di un'ora in trentino l'anno scorso secondo me è più tutto quello che accade anche in nord europa cioè non è che ce lo dobbiamo dimenticare con una frequenza sempre maggiore quindi o cambia nella sostanza a mio avviso il sistema e non c'è nessun indice che possa far pensare a questo o se no questo sarà veramente una relazione temo abbastanza più frequente di quello che noi possiamo immaginare e lì davvero dovrà cambiare inevitabilmente ma proprio il sistema nel suo aspetto proprio quello ideologico quello economico perché altrimenti succede un casino spaventoso cioè non è che possiamo andare avanti a fare assolutamente niente e non avere reddito questo non è fattibile certo hai sottolineato un concetto molto importante che mi sta a cuore cioè in questo periodo l'immagine per molti è stato anche un grande appoggio potremmo dire anche un sostegno però a mio avviso sembra che sia entrata anche nelle case in un modo intrusivo, veloce tanto che per molti di noi si sono fissate nelle nostre menti delle immagini che non dimenticheremo alcune sicuramente quindi il tuo occhio cosa ha intercettato in questo periodo? beh diciamo rispetto a ciò che veniva prodotto e pubblicato anche sui social devo dire che si è visto di tutto e di più ma anche il contrario con situazioni anche molto molto diverse tra loro con 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 lo stesso soggetto e questo anche dei magazine cioè penso ad alcune operazioni che sono state fatte secondo me piuttosto discutibili e altri invece estremamente quantomeno centrate a mio avviso quello che abbiamo fatto tutti in maniera indiscriminata cioè indipendentemente dal fatto che poi siamo o non siamo fotografi l'uso che è stato fatto dell'immagine è stato nella stragrande maggioranza dei casi focalizzata sul monitor perché la realtà vera è che essendo blindati ti rimaneva soltanto la rete che ha avuto un'evidente sollecitazione tant'è che insomma alcune cose in fase sia di call che anche altre operazioni mi viene in mente alcune situazioni anche benefiche dove i siti venivano crollavano per 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 l'affluenza insomma dal punto di vista di ciò che ho visto intercettato e soprattutto un uso abnorme rispetto a prima proprio del monitor come elemento proprio di anche di di uscita proprio da dove ti trovavi c'è un esempio a questo riguardo e condivido il monitor che è un precedente secondo me poi uno potrebbe anche discuterne però è uno degli esempi questo è un caso molto particolare perché questo fotografo Milan Radisic ha fatto un lavoro ha fatto esattamente quello che stavamo dicendo lavorando sulle varie telecamere in giro e usando skyline webcams ha fatto una serie di foto in Italia rigorosamente in Italia il Pantheon, poi ci sono Piazza Navona poi ci sono altri luoghi insomma nella totale solitudine nella totale solitudine la cosa secondo me interessante è che Skyline Webcam l'ha denunciato per un uso in proprio delle immagini inizialmente mettendo un po' in ansia anche tanti altri che hanno fatto esattamente la stessa cosa l'impressione che ho lui aveva inizialmente ritratto le immagini e poi giustamente invece le ha rimmesse e gli hanno chiesto 2000 no, l'articolo è quale gli hanno chiesto 2600 euro 2300 euro comunque lo trovate su Exitpart lo si trova immediatamente lui è stato denunciato e gli è stato chiesto di ritirare assolutamente le immagini c'è anche Bergamo ovviamente che lui ha fatto inizialmente dopodiché ha rimmesso in rete perché è stato un lavoro visto in tutto il mondo insomma l'hanno usato anche dei magazine via dicendo adesso poi non so quale relazione c'era in realtà nell'utilizzo e quindi qui apre un altro capitolo insomma sull'uso anche del mezzo e sulla in qualche modo la disponibilità di strumenti dediti solitamente ad altro perché credo che siano dediti soprattutto alla videosorveglianza in questo caso specifico o non lo so insomma un uso che invece diventa più decisamente più espressivo in qualche modo e quindi con un utilizzo anche del linguaggio ho ben in mente come finirà tutta questa storia anche perché l'impressione è che in realtà non puoi chiedere se chiedi il ritiro delle immagini 2600-2300 euro di ammenda diciamo così è talmente una cifra ridicola per montare di tutta la questione che mi sembra palese in realtà che non andranno neanche in giudizio su questa cosa qua oltretutto l'impressione che almeno io non sapevo neanche che esistesse Skyline eccetera eccetera per cui adesso sappiamo anche che esiste insomma quindi è stato un ottimo medium in realtà per loro questo però questo è quello che in realtà è accaduto e non è l'unico diciamo che lui è quello che è il caso più clamoroso quello più che ha avuto più concentrazione mediatica però ho visto un sacco di lavori del genere magari con l'obiettivo puntato altrove mi viene in mente una giovane autrice che conosco bene che si chiama Sofia Neren che ha fatto un lavoro simile però andando a cercare invece dei luoghi che non sono iconici o deputati dal punto di vista anche di quello che può essere il turismo solitamente quindi anche nelle periferie del mondo insomma e molti hanno fatto lavori di questo genere chi con maggior capacità e chi con meno però ne ho visti una marea e tutte le call alle quali ho partecipato e non ho mai partecipato a una quantità di call come in questo periodo ma c'è stato un momento in cui ero esausto cioè proprio non ne potevo assolutamente più perché era veramente la media di una al giorno quando non è stato qualcosa in più immagino e sì è stato tosto però vedevo io stesso ho scattato ogni tanto durante le call ed era una cosa per scoprire in realtà che una cosa la quale non avevo mai pensato che in realtà è possibilissimo anche ritrarre e fare anche dei posati in remoto Efra io su questa cosa degli scatti in remoto volevo chiederti che cosa ne pensi cioè in remoto che cosa hai visto che cambiamenti hai percepito come nessuno per quello che mi riguarda perché io ho in corso io ho un laboratorio e ho in corso due percorsi uno che è trasversale che è proprio la ricerca del linguaggio e dura circa otto mesi l'altro è un master sul ritratto che dura altrettanto in realtà guarda lo uso come spot si chiama ISO 0 ed è un percorso che in realtà proprio sul ritratto segna in maniera molto precisa anche sul resto ma sul ritratto che è l'ambito fotografico che a mio avviso concentra il maggior numero di cliché possibile rispetto a tutti gli ambiti fotografici sul ritratto credo che ci sia da fare un po' di chiarezza almeno per come lo vivo io io non creo delle condizioni cioè non è che bisogna intendersi sul termine empatia io ho un obiettivo quando ovviamente ritrago e per me il soggetto è sempre che sia è sempre un pretesto e anche quando è una figura umana oltretutto non ho un come dire uno schema mentale antropocentrico di conseguenza per quello che mi riguarda il ritratto è anche oltre la figura umana e quindi riguarda anche altre vite sia animali che vegetali quindi in realtà se possiamo dire quello che vi ho fatto vedere prima è un posato perché alla fanciulla in questione io gliel'ho detto l'ubomira per cortesia ferma un secondo ti ritrago abbassa leggermente il viso clac questa è come è andata io l'ho avvisata l'ho detto stop facendoti un ritratto ferma così abbassa leggermente il viso e ho scattato e quindi questo è il mio è stato il mio rapporto eh Framma ma potremmo dire che hai hai subito ho scelto una metamorfosi secondo questo no perché in realtà è piuttosto coerente con il una metamorfosi no io nel fare questo ritratto io ho fatto anche se a distanza e con modalità eh diverse ma sostanzialmente la stessa cosa che io faccio normalmente chiaro che hai una serie di di condizioni molto diverse cioè una qualità che è decisamente inferiore e tutta una serie di condizionamenti in qualche modo ma poi l'essenza dell'immagine insomma è quella e comunque il tuo sguardo e la tua traccia insomma il tuo modo di vedere lo puoi lo puoi far emergere anche assolutamente all'interno di di un percorso in remoto non mi sono devo essere sincero non è che poi mi sia adentrato così tanto sulla questione cioè è come se a un certo punto quello che è accaduto in questo caso è come se personalmente abbia colto in tutto questo percorso di call di rette e quant'altro insomma una situazione che mi era particolarmente nella visione che avevo esattamente come ci stiamo vedendo noi adesso particolarmente c'è una relazione piuttosto forte con quella situazione che a quel punto è scattato proprio la fase in cui Lubomira per favore ferma un attimo abbassa il viso sto per scattare e lei ha eseguito non ha obiettato assolutamente nulla so che c'è chi scatta non avvisa non e qui si apre un altro capitolo che è di carattere legale nel quale io non sono francamente ho delle mie idee a riguardo però non sono così cioè non ho il dizionario adeguato insomma per poterlo affrontare sicuramente questo bellissimo ritratto in un altro momento non sarebbe nato le condizioni sono in qualche modo le manipoliamo sempre in realtà e in realtà intercettiamo solo ciò che siamo in grado di intercettare sforzarsi di cercare assolutamente l'immagine che è quella come l'immagine della tua vita l'immagine assoluta eccetera credo che sia un'enorme perdita di tempo nel senso non che non esistano esistano una serie di immagini in realtà è un flusso ma in realtà quello che puoi fare questo per chiunque è di intercettare quello che sei che davvero ti riguarda perché magari ti passano a fianco una milionata di robe che non intercetti minimamente e qualcun altro invece è in grado di intercettare quindi ognuno di noi credo che intercetti quello che è in grado di intercettare quella era una situazione che era è nel mio proprio diciamo nei miei moduli no? e ho solo aggiunto l'elemento la mia relazione è stata semplicemente chiedere la cortesia di fermarsi di abbassare il viso insomma stop se uno dovesse pensare di espandere no? il percorso e via dicendo allora può fare anche ben altro e le stesse cose certo non hai lo stesso agio è un altro percorso ma credo che la cifra comunque espressiva emerga di ognuno se è autoriale emerge in qualsiasi caso cioè e anche nel one shot a mio avviso la cosa si vede infatti ho fatto quella e fine cioè non perché dici ah mi sento appagato adesso non ci sarà mai più no? una foto come questa assolutamente no ma perché corrispondeva esattamente a quello che io stavo cercando e e e non lo sapevo perché non è che lo stavo che lo cercavo l'ho visto l'ho intercettato l'ho fatto chiuso e poi anche quella la capacità di riuscire a intercettare ma guarda che il problema è che le cose non intercettiamo perché ci censuriamo in realtà perché se non ci censurassimo probabilmente le cose cioè se pensassimo a un percorso parlo per quello che mi riguarda quindi con l'immagine e pensassimo a un percorso che è più simile a un flusso e non a una sommatoria di segmenti probabilmente allora all'interno di una condizione che in realtà è continua noi andiamo sicuramente a intercettare alcune cose dove sospendiamo magari questo flusso per quel momento e a quel punto interveniamo se invece siamo come dei frenetici su un tapirulana ma non non ci rendiamo conto neanche dove ci troviamo probabilmente c'è questa rincorsa e questa ricerca appunto dell'attimo io non ho mai cercato l'attimo nella mia vita dell'attimo a me non me ne frega assolutamente nulla proprio zero zero ma hai dei consigli da dare a magari giovani fotografi o anche chi cerca di esprimere la propria creatività in quest'ottica di che stavi appunto dicendo sì non so se sono dei consigli utili però in questo senso mi sono abbastanza schierato ed espresso in tempi non sospetti io ho fatto una serie di lezioni magistrali diciamo le due grosse sono in triennale a Milano e al Maxi a Roma la struttura era molto semplice partivo con una serie di slideshow molto cadenzati cioè proprio erano cose precise partendo da dove sono partito io ed era proprio un in qualche modo un percorso dedicato davvero ai giovani fotografi o comunque a coloro che hanno intenzione di approcciarsi alla fotografia cercando sostanzialmente di arrivare a un linguaggio che è la questione fondamentale ci sono dei modi il primo è non pensare di essere che il flusso sia all'interno del trend quello non è un flusso quello sei davvero sul tapirulana punto il trend è una delle cose più pericolose che esistano perché oltretutto se ci sei e in qualche modo hai un pensiero critico puoi in qualche modo intercettare davvero anche la contraddizione se invece la insegui e cerchi semplicemente di andare più veloce quindi cominciare andare più veloce del tapirulana anche l'unica cosa che ti può capitare davvero se non sei sorteggiato è quello di cascare per terra e quindi senza avere neanche la possibilità di esserti espresso davvero quindi il consiglio è di cominciare dei percorsi in maniera i percorsi che davvero ci riguardano e avere una grandissima disciplina io non conosco un solo artista che sia indisciplinato puoi avere la casa nel caos le scrivanie disintegrate la macchina più schifosa del mondo o quello che vuoi puoi essere completamente ciò che vuoi ma quando riguarda il tuo percorso io non ne conosco uno solo anche quelli che non abbiamo potuto conoscere ma suppongo che Caravaggio o Michelangelo non fossero così indisciplinati sul loro lavoro per volare proprio basso per citarne i due così ampasana cioè devi esserlo perché è solo attraverso proprio disciplinando proprio il tuo percorso quindi quello che mi sento di consigliare davvero è di evitare il trend di incominciare a lavorare sui percorsi che ti riguardano anche se pensi di essere un outsider e anzi oggi probabilmente il valore questo diventa un valore aggiunto e considerando che il mercato è molto cambiato negli ultimi in maniera pazzesca cioè la vera frattura c'è stata tra il 2008 e il 2010 proprio il mercato che produceva poi fotografia quindi per esempio i giovani che iniziano adesso non possono più pensare di avere come referenti dei magazine per magazine non intendo perché ce ne sono anche di bellissimi non intendo la rivista underground che è quella che non ti produce reddito tu devi pensare a poter vivere di fotografia e quindi ci sono dei magazine che non sono c'erano dei magazine che non appartenevano all'ambiente underground che però avevano un'enorme attenzione alla capacità espressiva dei fotografi che sceglievano ed erano anche molto giovani io non avrei potuto fare il fotografo se non ci fossero stati i magazine perché non avrei potuto farlo cioè certe cose lo dicevo anche l'altra sera nella diretta con Arari insomma cioè sul ritratto soprattutto cioè io ho fotografato personaggi pazzeschi in tutto il mondo non funziona se non hai cioè se non hai un magazine per me sarebbero stati inaccessibili cioè non è che davvero sul serio l'ho già detto mi ripeto non è che passi di lì suoni il citofono e ti aprono la porta non funziona in questo modo quindi oggi davvero diventa complicato ed era un elemento di discussione proprio in quella diretta che abbiamo fatto Arari Paolo Ranzani Sofia Neren e io per foto action per Torino per questa vendita di opere che non è un'asta ci tengo a sottolinearlo perché io alle aste non partecipo quindi ho dato un prezzo che è politico per tutte le opere o io non partecipo perché ho assistito a cose veramente poco carine insomma nelle aste e a un certo punto Guido Arari proprio me l'ha chiesto ha detto ma vedi la possibilità di un'alternativa al sistema diciamo della carta inteso come l'editore i magazine i libri quindi che fanno gli editori perché lì non c'è più nessuna possibilità in realtà a meno che tu non sei per i libri non paghi la produzione del libro per i magazine è una condizione piuttosto generalizzata non solo italiana precisiamo in Italia è piuttosto noi siamo diversi e quindi di più in Italia è di più però in realtà il problema è che abbiamo assistito a un certo punto una vera e propria amputazione del linguaggio autoriale all'interno dei magazine nella stragrande maggioranza poi ce ne sono alcuni c'è qualche direttore qualche foto editor che si sforza eccetera con grande fatica in effetti però questo è venuto meno quindi consiglio è davvero di esercitare su se stessi dei percorsi che che siano realmente propri e disciplinare molto il percorso tenendo conto che non è affatto vero che è uno dei temi che in genere viene bypassato non è affatto vero che la tecnica qualsiasi arte tu intenda frequentare la tecnica è fondamentale è la tua grammatica e più la conosci meno ne sei subordinato perché la usi proprio la manipoli se invece fai finta di niente e pensi che tanto non c'è problema per esempio in ambito fotografico il digitale ovviamente è un percorso che permette a chiunque con qualsiasi strumento di fare un'immagine e quindi si suppone che in qualche modo semplifichi la questione invece non solo non la semplifica ma in realtà diventa ancora più complessa la faccenda perché proprio ti devi misurare con uno strumento che è alla portata di chiunque e non perché tu voglia in qualche modo almeno per quello che mi riguarda non è una questione di competizione è una questione proprio qual è il motivo per cui ti metti a fotografare no qual è la tua urgenza no quindi che tu poi usi l'analogico il digitale o qualsiasi altra cosa non chi se ne frega però la grammatica la devi conoscere se no ciao questa cosa nelle tue foto emerge molto soprattutto nell'utilizzo tuo del mosso c'è una parte che è davvero empirica no ma proprio ma anche fisica realmente fisica e devi essere in grado di riconoscere se sei in esterno se sei in studio la questione la puoi tenere maggiormente sotto controllo e in genere hai una relazione cioè al risultato che ti sei prefisso ci arrivi molto più rapidamente in genere in esterno c'è una relazione con la luce che è una relazione molto particolare perché ci sono delle condizioni in cui tu il mosso non puoi farlo proprio quella cosa lì non è fattibile inutile che ti sbatti io ho un'esperienza recentissima a gennaio perché per la prima volta nella mia vita e non so neanche per quale diavolo di motivo ho detto devo fare la prima foto dell'anno cioè nel senso devo riconoscere devo dire questa è la mia prima foto dell'anno ma io non l'ho mai fatto in 40 anni non so che cosa mi è passato per la testa mai e ricordo di aver fatto questa immagine ed ero lungo il naviglio grande ma dalle parti verso il Ticino quindi fuori da dove nasce no? ed era luna circa le ore 13 eh un sole pazzesco la luce che rimbalzava sull'acqua incanalata ho tentato di tutto mi ero portato anche che cosa che mi capita raramente una fotocamera perché in genere uso solo lo smartphone quando vado in giro così invece l'ho portata perché dovevo fare la prima foto dell'anno no? è stato pazzesco perché ho portato alla sensibilità minima possibile ed era 50 ISO ho chiuso tutti i diaframmi per avere il tempo più lungo e malgrado ciò scattava dei tempi rapidissimi perché c'era una luce pazzesca oltretutto c'era il riflesso sull'acqua ed ero lì vi assicuro che ero su questo piccolo ponte rischiando la vita che sbattevo la fotocamera correvo una roma per ottenere un mosso ma una roma che mi che non ti puoi immaginare io da non fotografa posso dire che questo mosso mi dà una forte sensazione di verità proprio mi sa di pulsione di vita se mi posso permettere a fare a darti un mio pensiero al riguardo mi piacciono molto le foto mosso da ignorante in materia no ma è una questione è uno dei luoghi più epidermici in realtà almeno dal punto di vista dell'immediatezza no cioè ci sono tutto è in realtà ha una relazione molto forte e per quello che mi riguarda epidermica è più quando tu parlavi di empatia in realtà per me diventa è proprio una sensazione che viaggia più dal punto di vista epidermico o dello stomaco nel senso che in realtà è una relazione molto fisica la mia anche se sono ferma e glaciale apparentemente ma magari lo sono anche però in realtà proprio le sensazioni le avverto molto il mosso è indubbiamente quello che fa pensare che ci sia ovviamente una condizione più più fisica più immediata più di una relazione però è un luogo molto complesso non è un luogo facile proprio perché si fa in fretta dire mosso ma in realtà poi ci sono perché non è è una perché tu potresti fare mossi ovunque no su qualsiasi cosa dal ritratto al fiore a a qualsiasi cosa alla piazza all'esterno all'interno e qualsiasi roba è quello che in realtà diventa l'elemento formativo formante poi dell'immagine è proprio il fatto che tu usi una tecnica particolare in questo caso che però non è così catalogabile perché il rapporto esistono delle questioni che sono veramente che hai in qualche modo consolidato nel tuo percorso con il mosso facendolo e quindi sai che in determinate condizioni con un certo tipo di luce tu hai ampie probabilità di lavorare muovendoti tu poi ci sono anche mossi in cui tu sei fermo e si muove il soggetto però diciamo in generale se sei tu a muoverti la fotocamera lo smartphone quello che vuoi insomma devono esserci delle condizioni molto precise perché c'è mosso e mosso cioè non è che ami moltissimo i mosso che sono invece la confusione no ma questo per quello che mi riguarda cioè anche perché poi si rischia di finire in altri ambiti insomma ho qualche difficoltà però indubbiamente il mosso è un luogo molto particolare non è che sia così perché ti può venire il vero problema è rifarlo 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 cioè farlo farlo cioè questo per tutta la fotografia ti può andare di culo una volta se non conosci la grammatica ma è anche due cioè quando è che dici ok ce l'ho ho lo scatto ce l'ho mi fermo perché perché il mosso non diverge da questo punto di vista dal generale nel senso che è solo una tipologia di percorso che in qualche modo che è molto diverso dallo sfocato io li frequento anche entrambi ma mentre lo sfocato lavora su un piano che è puramente bidimensionale il mosso altera in qualche modo in maniera artificiale ovviamente la profondità quindi in realtà tu affronti proprio un percorso che diventa tridimensionale su una situazione che è palesemente bidimensionale quindi in realtà proprio cambiano alcune cose e me ne rendo conto che l'immagine c'è perché proprio avverto esattamente è una questione sembra una banalità ma è la la questione fondamentale per quello che mi riguarda in fotografia è che tu hai veramente la visione di una cosa e che tu usi gli strumenti per ottenere realmente quella visione là quindi io mi accorgo quando ho raggiunto quella visione là se non la raggiungo la visione che ho avuto non funziona ripeto ci sono delle condizioni col mosso ci sono delle condizioni dove non è materialmente possibile nel senso che dovresti veramente anche perché non è che andare a 300 all'ora ti dà un certo tipo di mosso non è lo stesso cioè ci sono le questioni che intervengono che sono altre in generale rispetto alla tua domanda su sull'insieme devo dire che mi accorgo che c'è nel momento in cui come ho detto prima ho realmente la coincidenza tra quella che era la visione e quello che in realtà ho davvero fatto allora lì sì però non mollo mai soprattutto con il ritratto io non mollo mai la persona che ho davanti e che devo ritrarre ma mai significa mai ci sono delle immagini dei ritratti che ho fatto che sono che sembrano degli istantanei e sono stati totalmente ricostruiti cioè sono dei posati rifatti me ne viene in mente uno adesso un ritratto a Fernanda Pivano che sembra un istantaneo ed è stato rifatto completamente totalmente rifatto e sembra un istantaneo ma era a pellicola in 6x7 con una 5x6x7 generatori generatori pro foto flashioni assistente tutto quanto cioè proprio tutto quanto solo che io ero girato e ho fatto una battuta con la mia assistente lei è scoppiata a ridere in questo modo proprio l'ho registrata e ho detto benissimo rifacciamo ed è stata rifatta non l'avrei mai detto sì guarda non sei l'unica ricordo una una persona che quando avevo detto sta roba qui ha detto no era distrutto dalla cosa ha detto ma scusa ma che te frega perché tu puoi fare cioè il rapporto tra istantanea e posato è del tutto cioè questa come dire divergenza del tutto artificiale nel senso che in realtà che cosa te ne frega cioè il posato non ha cioè non è che una delle due è di per sé più nobile dell'altra sì c'è il concetto che se è rubata diciamo così quindi in istantanea abbia più valore in genere sono quelli che fanno fotografia che dicono questo perché non sanno a relazionarsi col soggetto in una condizione che altra poi attenzione ci sono quelli che per scelta proprio fanno quel percorso non lo sto dicendo e ci sono degli ottimi risultati cioè il problema è quello di non stare lì a pensare che ci sia da parte dell'uno o dell'altro un qualche privilegio in una qualche scala di nobiltà espressiva è una è una convenzione del tutto secondo me molto superficiale cioè guardiamo quello che viene fatto ci sono degli straordinari posati e dei pessimi posati ci sono delle straordinarie istantanee e delle pessime istantanee insomma la fotografia funziona in questa maniera qui cioè ci sono delle cose ottime e delle cose che ottime non sono cioè se poi vogliamo necessariamente chiudere nello sgabuzzino di un genere o di altro facciano pure insomma cioè non è una cosa che mi riguarda personalmente cioè posso passare benissimo dall'una all'altra senza alcuna difficoltà intellettuale capi o morale cioè non ho cioè oddio adesso ho fatto un'altra tecnica no per nulla perché per me proprio non ha proprio non ha non ha gli strumenti sono solo degli strumenti sempre insomma il linguaggio è tutto e quindi gli strumenti li manipoli e li adegui e fai quello che devi fare certamente l'impianto sul ritratto l'impianto del posato è cioè ed è quello che dicevo prima sul ritratto ci sono una serie di cliché che in qualche modo ci bloccano e siamo noi ad autocensurarsi in primis io lo vedo anche nel master che faccio c'è un'autocensura rispetto al al ritratto perché è il ritratto invece se tu incominciassi a pensarlo che è fotografia e quindi il tuo obiettivo è quello di fare una fotografia no e non il ritratto la questione cambia cambia di gran lunga chiaro che il piano diventa poi un altro e devi sapere gestire molto bene le situazioni questo è il motivo per cui io non mollo mai mai finché proprio è proprio finita no io non mollo mai ma anche se sono girato ti vedo stai tranquilla che ti vedo a me verrebbe da farti una domanda anch'io non sono una fotografa mi occupa non è grave meno male però anch'io comunico con le immagini perché comunque sei grafica tu vero sì e una e mi sono ritrovata a fare delle mie grafiche durante questa quarantena per raccontarmi per dare anch'io un'impronta di questo di questa situazione c'è qualche immagine anche perché tu sentendo di parlare hai parlato con tanto pathos anche di tecnica quindi hai una concretezza tecnica ma poi ci metti proprio la passione ricerchi quella quella tua visione del soggetto che vuoi ritrarre c'è un'immagine una foto che rappresenta la tua quarantena anche perché sei in Lombardia cioè sei in un luogo molto molto caldo che ha vissuto ed è stato traumatizzato da questa situazione ce ne sono tre una da sola non sapevo isolarla ce ne sono tre e la prima è stata questa che è un mosso non mossissimo ma è un diciamo un micro ma è un mosso è proprio un mosso ed è stata fatta l'11 marzo del 2020 alle ore 22.35 proprio all'inizio noi eravamo già blindati ma non blindatissimi in Lombardia e io avevo intenzione è stata la sera in cui il premier Conte aveva chiuso proprio chiuso ma io ero già in Piazza Duomo mi ha chiamato mia moglie e mi ha chiamato guarda che sei ha chiuso cioè proprio chiuso e io ero in giro cioè c'era in giro nessuno devo dire che non c'era nessuno io non ho mai visto niente del genere in Piazza Duomo così neanche uno non se la può immaginare questa è una perché c'è un affetto nei confronti non è secondo me necessario essere credenti in questo caso cioè è anche insomma il Duomo è qualcosa che per i milanesi rappresenta proprio innanzitutto è una è una presenza che che ha attraversato un po' di epidemie e vari travagli no negli ultimi secoli e quindi in qualche modo è un elemento di conforto perché lui c'è ancora no e in questo caso per me era una priorità fotografarlo ma fargli proprio un ritratto perché in realtà questo è un ritratto più che alla facciata proprio alla faccia e urla abbastanza insomma e poi ce n'è un'altra che è quella che ho fatto vedere prima che è uno screenshot che è questa e poi c'è un autoritratto che io ne ho fatti la mia vita devo decidere se sono 4 o 5 però e c'è questo sì perché non è che abbia tutta questa voglia di farlo è questo che per me ha proprio un ed è un mosso anche in questo caso ed è un autoritratto a tutti gli effetti ho proprio preso la fotocamera l'ho girata e senza vedere quindi solo percependo una serie di cose ho scattato poi ho avuto anche un colpo di fortuna perché nella zona qui a destra dove c'è un altro spazio ero in controluce stava passando mia moglie e niente e quindi se non fosse stata così l'avrei rifata perché ne ho fatte due o tre due senza poi è arrivata questa e se non fosse stata esattamente così l'avrei rifata cioè l'avrei rifata che immagini di quarantena cioè nel senso ti rappresentano anche un percorso credo cioè di come l'hai percepito tu questa quarantena io stavo benissimo io devo dire che no no ma blindare cioè a me francamente io ho passato tantissimi anni ma tanti tanti a girare per il mondo e e soffrivo molto insomma quando io mi fermavo mi fermavo cioè ma mi fermavo cioè era impossibile farmi uscire da da due cioè andavamo in un posto io lì cioè picchiavo veramente i picchetti e non mi si trascinava via minimamente questo prima adesso la questione è cambiata devo dire che non avevo questa urgenza di uscire questo silenzio era un silenzio che mi piaceva molto non che non fossi preoccupato insomma per la situazione intendiamoci però se devo dire come stavo all'interno del mio fortino stavo decisamente bene un po' attonito rispetto alle notizie che arrivano soprattutto dalla Bergamasca devo dire che erano che erano tragiche e non si riusciva neanche a spiegarsi bene il come poi le cose magari si capiranno meglio dopo però sì sono state tre immagini che sono state in tre momenti diversi perché quella del Duomo è stata appunto a marzo all'inizio poi c'è stata quella delle delle call che avevano iniziato a prendere quindi è stato un altro momento e poi l'autoritratto che è più recente non mi ricordo di quando è però è molto più recente quindi sì riguardando queste queste foto soprattutto mi ha molto colpito la tua scelta no? sequenza di queste tre foto perché sono veramente sembra rappresentano in tre foto è rappresentato come il tuo racconto perché mi verrebbe da dire ripensando al lockdown alla quarantena vedo le proprie origini vedo le relazioni con l'altro e vedo la persona quindi il Duomo mi fa pensare anche come no la casa dove siamo siamo protetti dove noi viviamo e anche dove siamo dove sei nato giusto? sicuramente è un elemento di conforto è un elemento di conforto è di forte perché non è proprio un elemento è una presenza di conforto cioè in tre foto hai descritto secondo me i concetti le sensazioni le emozioni che tutti noi ci siamo abbiamo pensato abbiamo provato perché tutti noi ci siamo posti di fronte a nuove relazioni con strumenti diversi ci siamo chiesti sto bene a casa e mi conforta la mia casa ma soprattutto anche ci sono state diverse analisi sui propri bisogni sul proprio essere delle domande importanti quindi mi è piaciuta molto questa tua scelta di queste tre foto che secondo me sono molto molto significative e lanciano un bellissimo messaggio per chi come noi ha vissuto la quarantena e il lockdown ma guarda ti ringrazio non ho idea in realtà io non ho guarda in maniera molto semplice io non ho pensato nel farle un messaggio particolare poi tu sei liberissimo ognuno è liberissimo poi esiste anche l'inconscio devo dire che in quel caso è un inconscio molto conscio perché in realtà vi assicuro che essere a quell'ora a quel giornolino in piazza del Duomo dove non c'era nessuno c'era soltanto c'era la polizia di stato lungo il lato che va verso la galleria Vittorio Emanuele e altri agenti della polizia di stato verso Palazzo Reale in mezzo nessuno in tutto il tempo che sono stato lì anche se non sono stato lì tantissimo perché sono stato una mezz'ora 40 minuti circa piazzato in mezzo ma proprio in mezzo con le spalle attaccate al monumento a Vittorio Emanuele anzi poi ci sono salite ed è stato l'unico momento in cui ci sono avvicinati due poliziotti per dirmi molto garbatamente che però non era il caso perché non è vietato e sono sceso in tutto quel tempo è passato un signore con un cagnolino al guinzaglio che ha fatto in diagonale la piazza e basta era impressionante ma era impressionante impressionante quindi non c'era la mia priorità era quello di ritrarre quella facciata e quella faccia lì con l'immagine in remoto la priorità era quell'immagine e l'autoritratto mi è scattato proprio perché perché continuavo a parlare di autoritratto all'interno del mio laboratorio perché gli avevo detto fate degli autoritratti incominciamo a vedere che relazione ci può essere insomma in questo momento e l'ho dato delle indicazioni molto precise cioè su come gestire poi la questione anche praticamente perché sono diversi i piani anche dell'autoritratto cioè l'avere anche una fisicità con la fotocamera cambia la questione insomma ci sono una serie di cose che di indicazioni e poi mi sono detto ma caspita lo sto dicendo a tutti ma io non lo sto facendo perché in realtà io non ho mai io veramente vi assicuro credo di avere erano tre o quattro prima di questo adesso sono quattro o cinque perché sono ho un punto di domanda su un autoritratto di un bel po' di tempo fa ma sono questi cioè non ho l'abitudine a scattarmi non quindi non che non mi sia fotografato altre volte perché magari serviva e non avevo delle immagini magari su una biografia mettiamola così c'era un'immagine alcune c'è un autoritratto che non può essere dato per un'autobiografia perché è un nudo e francamente non sarebbe molto apprezzato e ci sono altre circostanze in cui sono proprio dei piani molto molto precisi quindi prendevo e mi facevo una foto fine della trasmissione ma non era fatto col senso dell'autoritratto che e quindi è anche quello del che poi è sostanzialmente un ritratto a se stessi con tutta una serie di insomma di implicazioni quindi questo è stato secondo per me è stato davvero in realtà importante me ne sono avuta la sollecitazione passavo da questo spazio che è casa mia e da quale passo abbastanza sovente insomma e ho avuto proprio immediatamente c'era una luce che era perfetta ma perfetta luce ambiente quella non c'è nessuna luce ambiente mi sono piazzato davanti a una finestra ho tirato su la fotocamera ma sono manca solo ci mancava manca solo strip cioè il mio gatto che in genere nelle dirette nelle dirette passa dappertutto gira eccetera invece non l'ho visto perché probabilmente era preoccupato però lo sento adesso era preoccupato da da qualcosa potrei dire che hai lasciato delle belle impronte cioè se pensiamo all'impronta è la prima volta no? quel duomo di Milano beh sì quel duomo per me la percepisco proprio come un'impronta che hai lasciato che ci hai regalato molto bella ma ti ringrazio sei molto cortese per me era una priorità cioè quando dico che il mio perché proprio di raccontare la mia storia non è una butata cioè è vera questa cosa cioè io credo che la fotografia abbia due elementi in qualche modo che cambiano anche i termini a due parole fondamentali la presunzione che è un elemento molto importante in fotografia che non è nell'accezione di non è l'arroganza non è l'essere sborrone non è essere bauscia come si dice a Milano è proprio il fatto che tu davvero se non presumi tu non produci è l'arbitrio che è quello che ti permette effettivamente di usare il linguaggio per cui senza questi due elementi certe cose non si possono dare in fotografia e laddove ecco soprattutto i giovani che a volte vengono usate in maniera molto demagogica le parole e quando è salito in auge il termine democrazia la fotografia democratica eccetera ricordo di aver fatto delle discussioni fortissime in cui dice ma la fotografia non è una scienza sociale non si occupa di questo e non è democratica in che misura dovrebbe essere democratica perché se parliamo dell'accesso alla fotografia o per meglio dire l'accesso agli strumenti è una cosa sul fatto che la fotografia cioè il prodotto l'opera sia democratica non lo è proprio per nulla perché ha un linguaggio che è proprio il vero problema è che distribuite in questa maniera il rischio è stato proprio e lo si è visto insomma in alcuni ambienti non era possibile poi neanche esprimere non dei giudizi ma intendo dire dei valori rispetto ad alcune cose che si vedevano ad alcune immagini che non erano prodotte io non ho l'abitudine di fare le letture portfoglio pubbliche l'avrò fatto pochissimo però ho assistito a diverse letture di altre insomma stando dietro a vedere che cosa succedeva e trovo che poi le ho fatte per quelle che mi servivano per il mio laboratorio intendo dire ma o se qualcuno insomma può capitare però è rarissimo insomma e vedere assistere a dei portfogli che sono molto 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 simili ma molto no e insomma che usano un po' davvero diventa del manierismo quasi ma questo è perché c'è anche un inquinamento rispetto a al valore in sé che poi ha la fotografia e se è un non è che uno dice è un mezzo espressivo perché piace tanto la combine mezzo ed espressivo perché lo è e allora se è espressivo esprimiti cioè al netto anche di errori di altre cose esponiti cioè se non ti esponi non fotografi ma secondo te i social che ruolo hanno in questo? nella fotografia? sì soprattutto anche dell'incapacità di riuscire a trovare una propria identità nell'esporsi perché siamo condizionati adesso siamo tutti sempre in contatto siamo molto influenzati e ci sono proprio dei filoni sì ci sono dei filoni e dei figoni nel senso che poi ci sono proprio quelli che se la cantano e se la suonano in questo senso e magari anche con un discreto o un grande successo di pubblico e quant'altro ma non è quello che a me interessa i social sono un luogo sono un contenitore e se noi lo prendiamo come un contenitore che non è che sia totalmente neutro ovviamente però ci dà la possibilità in qualche modo di addobbarlo arredarlo come vogliamo e quindi dipende anche da noi in qualche modo è evidente che in ambito fotografico l'implementazione delle fotografie ha fatto sì che si creassero dei veri e propri cioè come dicevi esattamente tu cioè proprio dei percorsi che sono praticamente idee per cui cioè bisogna scattare con quel contrasto lì che sembra delle pellicole fotomeccaniche e tutti che con quel contrasto tu dici ma tutti i toni intermedi e quant'altro te ti fanno schifo cioè guarda che c'è molta più roba dentro ci sarebbe molta più roba dentro queste immagini di quanto tu sia riuscito a distruggere e non se ne rendono conto per cui sono diventano proprio dei manierismi che assumono è il trend senza contarvi il fatto che i trend social sono quando diventano trend sui social sono già retroguardia nel senso che o magari sono lì sul punto però poi l'onda i social hanno un'onda decisamente più lunga perché tu credi di essere arrivato chissà dove e invece assolutamente no e tutto ciò insomma senza avere in mano nulla di te e questa è la cosa veramente che trovo terribile perché poi si parla tanto è un periodo che tutti parliamo tanto di condivisione ma è fittizia nel senso che la condivisione vera è un'altra roba cioè quando io penso alla parola condivisione davvero penso alla condivisione e penso anche a degli strumenti che siano in grado davvero di far condividere delle esperienze dei valori delle 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 conoscenze delle insomma la condivisione è una relazione che può essere anche non c'è nulla di virtuale per quello che mi riguarda non è un luogo altro è un luogo che in questo momento per quella che è la nostra vita ci accompagna non è che possiamo far finta che invece quando siamo sui social siamo un'altra persona cioè io se apro l'account qualsiasi account che sia su facebook o su instagram e lo guardo ma ho idea quantomeno ho idea della persona che c'è dall'altra parte insomma non mi rendo conto di alcune di alcune cose e ce ne rendiamo conto tutti e poi in realtà quindi quel contenitore qui è un contenitore che puoi usare al netto di alcune questioni che sono incluse nel contenitore per poterci entrare certe cose no però insomma in qualche modo sei tu che arredi il tutto e non puoi anche i legami ah sì certo che fai da collante assolutamente sì e poi diventa anche difficile perché a volte almeno parlo per me ci sono io purtroppo mi capita di io non conosco tutte le persone con le quali ho un contatto però devo dire che è stato uno strumento per me molto ma direi proprio bello perché io ho conosciuto delle belle persone grazie ma poi le ho conosciute cioè nel senso che mi è successo ma non una sporadicamente ho conosciuto delle persone grazie proprio anche ai social perché si vedeva che c'era anche a proposito di condivisione la voglia davvero di condividere alcune cose insieme cioè non è che capita ovviamente con chiunque però succede e quindi io sono molto in realtà meno drastico nei confronti dei social cioè detta così è un luogo non facendo il sociologo do altri tipi di risposte io che sono quelle insomma con le quali mi relaziono cioè se pensiamo poi anche al piano generazionale di alcuni social rispetto ad altri e come le cose cambiano in realtà con una velocità spaventosa insomma non quindi quindi boh certamente la fotografia nei social non è è una parte della fotografia non che non lo sia ma non è la fotografia è una è una certa parte che uno cioè e serve ed è utile ad alcuni insomma non non certamente ci sono dei piani che in qualche modo diventano vuoi perché sono più ammiccanti vuoi che perché ti sembra che sia anche tutto più semplice e facile e ammiccano appunto un po' hanno un'interazione maggiore un fascino maggiore ti ci butti dentro vedi che ci riesci poi ti giri e vedi che ci sono altri 80 miliardi di persone che fanno esattamente 80 miliardi no non ci arriviamo ancora però hai 8 milioni di persone che fanno esattamente la tua stessa cosa ma il problema è che lo fanno proprio esattamente nel tuo stesso modo non che dici ed è passi e lì dove veramente tu hai una grande lacuna è un deficit che è quello grammaticale e non sei in realtà non intercetti niente non hai alcuna visione e ti abbruttisci su altro questo è bellissimo questo messaggio che ci lasci e anche perché spero di non lasciarvelo proprio di continuare che ci racconti in questa scatola che ci lasci in questa scatola a proposito di relazioni a distanza perché è un po' il messaggio che vogliamo lanciare con il nostro progetto perché noi vogliamo con il nostro progetto perché ho girato sulla vostra pagina eccetera ve la faccio io una domanda ma mai che misura cioè il discorso sulla creatività no? cioè in che misura cioè pesa secondo voi sulla su su ciò che 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 stiamo vivendo e poi la creatività no? cioè in che misura si potrebbe sviluppare diversamente in questa situazione? io penso che c'è due strade questa questa questione nel senso sia per quello che dicevi tu prima che le persone copiano il copia e incolla riproducono le stesse cose ma sia penso voglio dare anche fiducia do fiducia alle persone anche perché il mio lavoro è la base del mio lavoro penso che in questo periodo di di spazio di un tempo un po' appeso hanno avuto l'opportunità di conoscersi un po' di più e da qui che vorrei cioè invitiamo proprio le persone a raccontarsi nella loro unicità questo dico la creatività come potenza come forza interiore che esce fuori poi può essere anche la foto dell'orto perché sono nati i fiori e prima la persona non si era sperimentata cioè non è per forza dobbiamo chiediamo agli artisti che hanno già il mestiere in mano che ci fa piacere ed è bellissimo vedere la loro espressione ma anche delle persone che ci stanno raccontando in diversi modi proprio per non fare questo famoso copia e incolla avete diversi mezzi comunicativi simbolici che potete utilizzare comunicateci le vostre emozioni che può essere la parola l'immagine una canzone una musica e tante tante altre cose proprio come forza motrice della vita la creatività spero di averti risposto no 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 sì no hai risposto perfettamente poi però è una di quelle parole in cui anche nel nostro ambiente soprattutto si è abusato in una maniera terribile per cui non riuscivi più ad avere degli argini o dei margini per cui tutto diventava in quanto cioè ci sono delle situazioni che secondo me diventano oggi soprattutto oggi molto difficili da 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 gestire è stato comunque un momento anche interessante perché ma anche sotto tanti profili cioè alcuni anche didattici per esempio anche perché se non avessimo avuto questi strumenti dal punto di vista didattico tutto sarebbe stato totalmente fermo cioè noi pensiamo alle difficoltà che abbiamo avuto sui percorsi che possono essere didattici ma se non li avessimo avuti saremmo stati proprio fermi totalmente fermi cioè ti sei sentito privato di qualcosa la libertà ok no proprio io non ho avuto sensazioni di privazione di libertà in alcun modo nel senso che non ho non ho mai avuto questa urgenza di uscire ricordatevi una cosa però che non è secondaria si sta parlando di Lombardia quindi c'è anche questo elemento cioè fossi stato non so dico atropea probabilmente o in Trentino per usare i due estremi probabilmente la situazione sarebbe stata però non avevo questa urgenza di uscire non la sentivo come un'urgenza mi sono accorto per caso che per due giorni non ho aperto non ho girato la serratura di casa neanche per buttare la pattumiera e me ne sono accorto quasi casualmente nel senso che non mi pesava affatto è come se personalmente avessi avuto poi bisogno in realtà di una condizione di condivisione selettiva diciamo così e che quindi tutto sommato mi andava anche bene non mi è mancato beh certo se penso che sul piano fotografico nel senso che i lavori sono totalmente fermati cioè nel senso che non e voglio vedere anche come si riprenderà con il discorso del distanziamento e quant'altro cioè alcuni miei primi piani non so neanche davvero come poterli fare e quello vedremo insomma cosa accadrà ma non ho avuto nessuna anzi direi direi il contrario per come lo stai descrivendo ti sei dato alla scelta alla scelta personale cioè tu stai parlando di scelte cioè non hai sentito proprio la costrizione che quella la situazione ti ha obbligato in qualche modo anzi ti ha fatto riflettere sulla scelta sì c'è una cosa che io sono uso la relatività spessissimo cioè per me il relativismo è un elemento molto importante e quindi pensavo ho pensato a situazioni o persone che potessero che si trovavano in condizioni ma non solo a causa del covid ma in situazioni di restrizioni ben altre e che quindi tutto sommato io ho una condizione abbastanza in questo senso privilegiata perché ho una casa che è accogliente non sono da solo c'è mia moglie c'è c'è strip che è un gatto del tutto particolare vi garantisco che riempie no cioè quindi insomma avevo delle relazioni in rete con altre persone insomma è vero non è come vedersi no però non l'ho sentita come una un'impellenza questa cosa quindi e non l'ho vissuta come una certo un conto è stabilire che ha una temporalità no un conto è dire bene e adesso per i prossimi cinque anni tu vivrai così allora la questione possiamo risentirci e fare un altro tipo di commento a riguardo ho sempre pensato come tutti che fosse non in realtà non sappiamo quanto temporale però se comunque l'abbiamo sempre vissuta in questo modo per cui trovo che ci sia stata anche al netto di condizioni personali che io non discuto non mi permetto di discutere perché poi ognuno la vive a suo modo al netto di condizioni personali ritengo che in alcuni casi ci siano state anche un po' di insomma si si è estremizzato un pochino e che quindi anche sì è vero certe privazioni ma quali se dovessimo andare a fare a lavorare per piani sottrattivi e considerando il tempo la quantità di tempo di cui si sta parlando che non sono appunto i cinque anni o anche uno insomma in realtà sapevi che era un tempo condizionato ma che era quello cioè sentire che sei condizionato dalla circostanza è una cosa sentirsi oppresso e con l'urgenza di uscire e urlare è un'altra però ripeto non non ci sono poi delle situazioni che sono totalmente individuali e per cui c'è non alcune ci sono abbiamo assistito anche a qualche esagerazione ma niente di più se parlo per me dico no io non ho avuto queste soverche difficoltà sapere da te dato che noi abbiamo molto sviluppato il nostro progetto anche sul concetto della meraviglia no? perché ci stiamo ci immaginiamo che questo post quarantena per molte persone c'è stata anche una prima volta no? perché nella quarantena ognuno di noi si è creato anche delle aspettative sulla fase 2 fase 3 fase 4 sul primo caffè al bar oppure su anche l'incontro con una persona che non vedevi da due mesi quindi si sono create delle aspettative e poi nell'atto compiuto c'è stata la prima volta che potrebbe sia corrispondere all'aspettativa che sia potrebbe essere diversa però tutto questo potrebbe anche portare a portarci a pentare il concetto di meraviglia ci siamo molto meravigliati di questo nuovo inizio post quarantena volevo sapere se tu avevi una meraviglia da raccontarci beh in realtà la meraviglia vera che non è una meraviglia è semplicemente che rispetto alla situazione di blindamento totale tu esci sempre con tutte le attenzioni che vuoi e trovi un paesaggio completamente quello umano completamente mutato è vero e non solo quello umano anche il paesaggio è mutato quindi la meraviglia sta nel fatto di capire tutto ciò per quanto tempo sarà così e la meraviglia sta nel fatto anche può essere anche sostituito con l'imbarazzo nella prima volta che rivedi una persona e dunque dunque allora io non l'abbraccio perché lei non mi abbraccia cioè tutte queste cose qui e quindi credo che si debba tenere presente però una cosa che non ci troviamo di fronte a una robetta mi si conceda il termino oratoriale cioè è una roba bella tosta e sottovalutarla può essere un grosso problema quindi mettere esporre altre persone può essere un grosso problema per cui credo che io non ho degli elementi che possa dire la meraviglia perché non l'ho ancora in realtà non l'ho ancora provata no una meraviglia c'è stata una sì una sì siccome prima non potevi uscire in due cioè non è che potevi andare a supermercato con il coniuge e via dicendo quando siamo quando c'è stata la possibilità di uscire insieme la meraviglia è stata salire in macchina entrambi cioè io ho detto caspita da quant'è che non saliamo in macchina insieme cioè sono due mesi perché l'ultima volta che eravamo saliti in macchina insieme era il 10-12 febbraio abbiamo fatto un po' di calcoli per cui dici ah però perché non erano anche le rarissime volte che o usavo o uscivo io con la macchina per andare a fare la spesa o usciva mio moglie per andare a fare la spesa in realtà si andava ovviamente singolarmente per cui il posto di fianco era sempre libero improvvisamente dopo due mesi oi boh scusi lei cosa fa chi è ma cioè anche quello è un panorama limitatamente all'abitacolo dell'automobile insomma era un sì ho avuto questa meraviglia in realtà ne ho avuto una questa siamo in macchina insieme dopo due mesi vabbè aspettiamo anche le prossime ovviamente sì sì ci saranno delle vi bisognerà vedere davvero perché comunque è cambiato quello che vedo è cioè ci si guarda in maniera anche un po' più circospetta eh cioè incrociandosi per strada le persone e via e via discorrendo guardate che poi lombardia è un pochino diversa è la questione cioè non è esattamente la stessa cosa e siamo da più tempo cioè da noi il lockdown è iniziato prima insomma tutta una serie di squisitezze che abbiamo potuto godere e non abbiamo ancora smesso no per cui in qualche modo infatti io trovo che in realtà non so altrove però qui c'è una grandissima attenzione eh trovo che sia stato fatto sia state fatte veramente delle cose sgradevoli l'immagine famosa quella del naviglio pubblicata con quella res eccetera palesemente un fake una fake perché bastava guardarla insomma no cioè è stato usato un iper teleobiettivo erano schiacciatissimi i piani cioè quindi la realtà vera che era si trovava dieci persone che erano davvero in quel piccolissimo spazio e la distanza un mio amico che è uno che è precisissimo no l'ha anche pubblicato ha preso la piantina di Milano di quella parte lì e ha fatto la riproduzione esatta delle distanze ma il più vicino era a 200 metri cioè nel senso che il ponte che si vedeva dove c'erano tutte quelle robe che il ponte che passa dietro da Porta Genova e scava il cannaviglio da quella parte era a 200 metri cioè e lì sembrava che tu ce l'avessi addosso e la persona che passava di sopra ce l'avevi a 200 metri e ne avevi 300 alle spalle cioè il punto è che c'erano una decina di persone che erano di fronte a un locale che era chiuso tra l'altro stavano discutendo e stavano chiacchierando a debita distanza perché poi esistevano le altre immagini no ma quelle quelle che hanno fatto girare allora uno dice ma perché veicolare sugli organi di stampa queste immagini tu mi stai dicendo che quello che sta accadendo a Milano in questo momento è che c'è un gruppo di giovinastri che invece se ne sbattono un gruppo la totalità dei giovinastri che se ne sbattono assolutamente le palle quando non è affatto vero cioè e questa è quella che e quando la fotografia non è una cosa che mi riguarda perché non mi occupo di informazione però è quando la fotografia che viene usata a livello informativo in realtà è lecita di denuncia perché tu stai dicendo una palla colossale e la stai usando quo pro stai manipolando stai manipolando coscientemente la in maniera assolutamente cosciente perché lo fai coscientemente usi lo strumento giusto perché i piani vengono ipercompressi non dice assolutamente niente ti dicono naviglio giorno X eccetera tu vedi quella roba che è quello che è venuto fuori la cosa che mi ha stupito è che c'era cascato anche Sara cioè il sindaco di Milano che avevo che ho ritratto tra l'altro poco prima l'avevo ritratto a novembre a fine novembre però era un'immagine che se uno se le piglia tutte così per buone dici ah assembramento allarme allarme tutte palle sembra come quando leggi il titolo della notizia e poi non apri l'articolo il titolo ci veda ti cattura e non sai non si è andata ad approfondire cosa volesse cioè cosa c'era nell'articolo vero ma lì sai è che quando tu ti trovi di fronte perché è proprio l'altra faccia della fotografia quella che ha un legame ipotetico con la realtà e quindi uno pensa che in realtà quella sia la realtà e quindi sia la verità quando parlavo prima dicevo proprio degli elementi che sono per me cioè che il relativismo è importante e anche questo perché io mi misuro con una un modello espressivo che conosco molto bene fin dall'inizio e che è totalmente falsificante perché è uno dei requisiti cioè a te non viene chiesto di dire la verità a te viene chiesto di usare un mezzo in maniera espressiva che è un'altra cosa poi puoi falsificare c'è modo e modo cioè non corrispondere alla verità è una cosa falsificare invece è un'altra cioè nel senso che cioè è un'altra questione insomma non è piani completamente diversi totalmente diversi devo farti un'ultima domanda perché mi è venuta la curiosità dal momento in cui stiamo parlando appunto della meraviglia del della paura dei rapporti anche tu stesso nel tuo ambito lavorativo di un ritratto dici certi ritratti certe cose non potrò farle più come prima con con la situazione cioè con gli occhi di adesso con l'esperienza vissuta di adesso se pensi a una tua foto a cui tieni particolarmente che per te è stata non lo so un traguardo comunque qualcosa che rappresenta qualcosa di importante la faresti secondo te allo stesso modo come l'hai fatta o adesso gli daresti la faresti con un occhio diverso è difficile è impossibile rispondere a questa domanda nel senso che è stata le condizioni diventano anche importanti e quando l'ho fatta a suo tempo quella era la condizione quindi mi relazionavo con quella oggi la farei diversamente quindi fondamentalmente ti senti anche tu cambiato da tutto questa cioè lo riporterai anche sul tuo lavoro secondo te il sentimento cambiato no se posso no assolutamente no se mi è consentito assolutamente no no ma nel senso che userò un sistema allungherò il braccio se ho una fotocamera che me lo permette o scatto a distanza con la fotocamera lì e faccio avvicinare il soggetto se devo fare un primo piano intendo dire la soluzione la trovo non è quello quello che trovo che sia l'occasione che si è persa a mio avviso in me ha acuito una cosa tutto ciò e cioè la sempre maggior divergenza rispetto a qualsiasi pensiero antropocentrico cioè nel senso che se ridurre il tutto a un pensiero che ha nell'uomo la centralità credo che sia una delle origini dell'errore e noi perseveriamo in questa cosa qui mentre e credo che abbia a che fare molto anche con la fotografia avere una visione sempre più oggi è fondamentale avere una visione molto più ampia cioè proprio una visione che visione hai del mondo per poter fotografare che non significa semplicemente che tu io fotografo fiori tra l'altro c'era una domanda che credo fosse tu a Irene sui fiori o qualcosa e poi ti rispondo perché quella me l'ero segnata tra l'altro le ho segnate tutte però ad alcune ho messo degli appunti lì ne avevo messo uno che non mi ricordo però ce l'ho qua come altri generi animali o vegetali poi reagiscono e hanno reagito rispetto all'assenza dell'uomo e l'abbiamo visto l'abbiamo visto sono appropriati degli spazi mamma mia è stato impressionante il Venezia ah sì è incredibile ma dovunque ma dovunque anche anche in montagna sono anche a Roma a Roma gli animali che si sono ripostessati per i per i parchi pubblici cose mai viste la cosa che mi ha colpito è che sono bastate poche settimane io pensavo molto di invece in poche settimane si sono si è abbattuto tantissimi di smog gli animali hanno ripreso possesso degli spazi assolutamente non solo se dai ancora più spazio poi arrivano le piante che ti cancellano perché sono quelle che proprio in tutti è una cosa che nei paesi fantasma per esempio cioè i paesi abbandonati via dicendo ci mettono pochissimo tempo in 3-4 anni ti occupano completamente lo spazio quindi pensare che noi siamo il centro dell'universo è un errore spaventoso e che tutto il resto del pianeta si muove in subordine a noi è un errore clamoroso a parte il fatto che abbiamo davanti cioè delle consiglio a tutti coloro che hanno una bella casa sul mare ma non al mare sul mare di venderla il prima possibile tant'è che le grandi agenzie immobiliari quelle che sono stanno stanno spingendo su questa cosa qui perché le dovranno svendere perché tutto quello che non passa in superficie gli interessi economici sono sempre determinanti a quanto pare la arrivano invece e il problema c'è un problema immobiliare sulla vendita ovviamente delle case che si trovano sul mare perché le acque sono alzate c'è una fotografa tedesca se non ricordo male che ha fatto tutto un lavoro sulla costa occidentale tutta la costa occidentale dell'Africa usando sia immagini via terra che droni e altro e è andata a lavorare anche sul il nomadismo delle persone che abitavano sulla costa e quindi sono state costrette proprio a spostarsi perché si è alzata ma non quando noi diciamo si alza di un centimetro ma un centimetro su quella massa lì è enorme cioè significa che tu hai 30 metri sopra il centimetro globale non rendersene conto è impressionante questa è la cosa sulla quale ho come dire ancora più puntualizzato come direi focalizzato ancora di più alcune cose Efram nei tuoi lavori come Do you like Fiorellini sottolini che il soggetto è solo un pretesto e che il linguaggio fotografico e la sua modulazione sono il vero fulcro puoi spiegarci meglio questo concetto? ti rispondo vi rispondo rapidissimamente non riguarda solo i fiori in realtà il soggetto è davvero sempre un pretesto perché puoi raccontare delle cose che sono davvero cioè che cosa quando parlavo prima la tua visione del mondo quindi il piano relazionale diventa molto importante ed è sempre un piano dialettico anche se ti trovi di fronte a un fiore magari lui non ti comunica ovviamente non magari certo il piano della comunicazione non può essere lo stesso perché non usiamo entrambi la parola ma il fatto che quello non comunichi è una balla totale usa un livello di comunicazione che è un altro che noi per presunzione non riteniamo incapacità non siamo in grado di intercettare se invece dovessimo cominciare a intercettarlo allora le cose cambiano quindi il soggetto diventa un pretesto perché a quel punto non che non cogli hai un piano che è relazionale ma è sempre per me un elemento che diventa subordinato a una visione che ho di quella situazione di quel percorso e le cose diventano altre poi raccontare tutti i miei fiori degli ultimi 4-5 anni perché io li fotografo da tantissimo tempo saltuariamente ma li fotografo sono tutti urlanti nel senso che in realtà sono delle immagini in cui i fiori urlano ma urlano proprio sì io sono rimasta molto colpita dal fatto che tu hai fotografato dei fiori che sono soggetti molto delicati in maniera molto dura con questa luce addosso esatto e rimandano questo senso di sì proprio urlano ma la mia relazione con anche perché poi ho incominciato un percorso sulla questione dei fiori recisi o altro cioè la relazione con i fiori ma con la flora vegetale insomma in genere è una relazione che parte proprio e questa è questa è degli anni 90 questa immagine qui solo che e se devo essere sincero quando ho scattato questa immagine pensavo mi capita spesso con alcuni fiori io non prendo non acquisto fiori recisi da metà degli anni 90 per cui o mi sono stati regalati adesso è passato il tempo in cui mi regalano i fiori però o mi vengono regalati magari appunto li regalano la mia moglie quando vengono qui e quindi io me li trovo recisi e li fotografo oppure li prendevo dai bidoni dai cestini e via dicendo penso sempre alle danze macabre del baskenis e proprio che sono quelle che a livello di riforma e contro riforma erano state poi dipinte all'esterno delle danze macabre insomma e ce ne sono alcune che proprio me le ricordano moltissimo poi ci sono dei piani insomma questi sono i miei fiori che partono da molto lontano e anche le piante insomma questa è più recente adesso sono qui è che è un muro di gessomine facessi vedere l'altra è più insomma non sono così morbide no proprio per nulla anche perché credo che abbiano proprio anche quelli di plastica questa non è plastica ma sono di stoffa però ho fotografato anche dei fiori di plastica insomma quindi questo sostanzialmente è quanto cioè la relazione ma per me non cambia però Irene cioè nel senso che davvero è un pretesto ma non nell'accezione negativa del termine per esempio per dirti una cosa che ho sentito anni fa io mi ricordo che stavo facendo da ragazza un corso di fotografia il mio insegnante disse non fotografate mai gattini tramonti e fiorellini perché sono dei bei soggetti e quindi scadi un po' nel banale invece in questo tuo lavoro tu fotografi un bel soggetto ma non fai una bella foto intesa come circolo dei fotografi fai una foto interessante una foto che comunica che è molto più difficile con un bel soggetto sono d'accordo sono d'accordo che molto spesso si equivoca che è una bella penso che raramente una bella immagine sia l'immagine di qualcosa di bello proprio perché uno è abbagliato dalla beltà e si dimentica che in realtà il suo percorso è un altro io fotografo gattini come ovvio ho fatto due libri con i gatti fotografo e faccio ritratto puro insomma perché non è gatti o altro insomma mi viene in mente visto che se penso a questo che è un ritratto a tutti gli effetti ed è una vacca di montagna giovane in Varrendena tra Madonna di Campiglio e Pinzolso siamo da parte della Dolomiti del Brenta ed è la relazione con gli animali sono dei ritratti a tutti gli effetti cioè non perché questa gallina mi è girata intorno un sacco di tempo poi io le ho piantato la fotocamera molto vicina con l'intenzione proprio di sfocarla ma lei mi guardava in macchina infatti era girata ed era lì proprio lì insomma la relazione con gli animali per me è gatti ha voglia cioè sai quanti te ne trovi quanti quanti ne trovi questo è strip cioè questo era un mio gatto meraviglioso insomma cioè qua invece ero in Sicilia era un gatto fuori fuori Palermo che era per strada questo è sempre strip perché è una tigre non è un gattino quindi cioè ma a parte che uno può fotografare sia i gattini che i tramonti che quello che vuole e fare quello che vuole la differenza è e non ho nulla neanche contro i souvenir io non vorrei capire perché bisognerebbe privare delle persone che non hanno l'ambizione di esporre al MoMA non gliene frega assolutamente nulla di fotografare il proprio gatto il proprio vaso di fiori il tramonto la propria figlia il proprio figlio ma facciano quello che vogliono cioè ma chi sei tu per poter il diverso è se invece tu ritieni o hai la presunzione di usare quello su un piano artistico allora un altro discorso ma ciò nonostante puoi fotografare gatti bambini figli figlie cioè tramonti vasi e quello che vuoi il soggetto davvero non c'è un soggetto più o meno nobile c'è solo il fatto che come tu come tu ti relazioni ai fotografi quello è l'unico differenziale il resto liberi tutti puoi fotografare anche le serrature delle porte se mi fai vedere qualcosa che non ho che veramente ha un piano espressivo forte ma perché no io ti faccio l'ultima domanda per chiudere questa nostra chiacchierata che è stata veramente interessantissima e ti chiedo che che messaggio vuoi lanciare attraverso le tue fotografie messaggio anche per il dopo covid la fotografia dopo il covid il messaggio è cerca di coincidere con la fotografia che fai ma non solo sul piano voglio dire ma anche dal punto di vista delle anche di tutto il resto delle relazioni dei dei insomma è un impianto più ampio cioè se coincidi con la fotografia che fai no si vede no perché io difficile guarda e dopo ti dico cosa sarà dopo sul covid ma ultimamente ho pensato da un paio d'anni che penso che a me piacciono le fotografie delle persone che mi piacciono mi fanno schifo le persone che mi fanno schifo quindi e ho risolto il problema capito proprio risolto ho detto ma che strana coincidenza guarda che queste immagini le trovo veramente orribili e poi magari conosco l'autore l'autrice eccetera più facilmente l'autore più che l'autrice perché soprattutto le ultime generazioni al femminile secondo me a parte il fatto che hanno una spanna sono una spanna sopra no cioè voi siete una spanna sopra rispetto ai vostri coetanei questo mediamente no fotograficamente la cosa io la vivo la vedo proprio in una maniera talmente macroscopica e anche altrove noto che sia per quanto non ne abbia le competenze però vedo le cose come stanno no quindi posso dirti una cosa posso fare un appunto da fotografa prego su questo che stai dicendo io la mia quarantena è stata questa blocco totale non potevo più lavorare mi sono ritrovata in casa dopo qualche giorno dove mi sono riposata ho detto bene adesso che faccio e ho iniziato a fotografare casa mia quindi i miei gatti le mie piante il muro di casa e ho iniziato a vedere delle cose che avevo sempre avuto sotto agli occhi ma non le avevo viste prima certo ho iniziato a guardare e a interessarmi in maniera diversa un po' come una meditazione intesa come una concentrazione maggiore una cura maggiore sul soggetto che sto osservando e ho fotografato le mie rose alle quali tengo tantissimo ma adesso le vedo molto di più quindi ho lo sentito cambiamento beh certo anche anche perché la condizione in qualche modo la condizione di privazione rispetto chiamavano così all'esterno induce anche anche perché uno può stare anche quattro ore fermo sul divano a guardare il vuoto poi succede che passa una mosca una roba qualsiasi un moscerino e ti accorgi che esiste anche altro oltre al tuo divano e il vuoto nel senso che ci sono altre cose e uno non c'è da questo punto di vista sì che la rivelazione può essere molto importante è una condizione di costrizione o chiudi gli occhi o gli spalanchi sì noi cerchiamo di fare questo attraverso questo nostro progetto di stimolare le persone in questa direzione infatti ti ringraziamo tanti è assolutamente enormemente meritevole quello che state facendo che io devo usare una parola che odio perché non mi viene in mente niente che sostituisca feedback cioè la odio che ritorno avete ecco invece diciamo che ritorno avete da queste vostre incursioni allora devo dire che per il momento siamo partiti da poco da pochissimo ma per il momento abbiamo avuto dei riscontri dei contributi fantastici bene le persone mi stupiscono sempre devo dire che è incredibile questa cosa abbiamo avuto dei contributi di vario genere da testi foto video canzoni ed è bello vedere mi piace molto sentire questo questo calore proprio delle persone che hanno voglia di raccontarsi hanno voglia di perché la paura del blocco è tremenda è molto rischiosa e invece essere creativi quindi per quello abbiamo potere creativo alla mente perché la creatività che è quello che dici tu quindi capire soffermarsi capire dove sei il tuo mondo la tua visione qual è che non è scontato per niente è un'operazione molto difficile è fondamentale e attraverso la creatività si può si può evitare di avere paura e quindi superare anche momenti come questa quarantena sì anche il rapporto con la paura poi anche lì è talmente soggettiva a me viene in mente il pezzo di una canzone di quello che posso considerare davvero un amico che diceva non ho paura di nessuno ma ho paura sempre perché in realtà che è una posizione tutt'altro che contraddittoria cioè il punto vero è che soprattutto le persone secondo me più predisposte e sensibili più esposte e sensibili ovviamente hanno un piano percettivo che non è semplicemente più esteso può diventare anche alterato c'è un piano percettivo che può essere anche alterato ed è se tu riesci a disciplinarlo può diventare un elemento effettivamente espressivo pensiamo ad alcuni casi clamorosi penso al pittore Ligabue che aveva una relazione molto se non fosse stato in uno stato come dire di alterazione rispetto a quello che potrebbe essere un certo standard quelle cose noi non le avremmo mai viste insomma in qualche modo poi il linguaggio ti salva la vita se sai usarlo in determinate situazioni se non sai usarlo precipiti rispetto invece all'altra domanda che facevi sul covid la fotografia cosa succederà dopo il post covid è una domanda che ha fatto uguale identica anche quando ho fatto la diretta con Afip Giuseppe Biancofiore mi ha detto ma se tu pensi che la fotografia non sia un luogo separato penso che la fotografia sia qualcosa che è all'interno di questo mondo qui quindi o cambia il mondo o la fotografia non è un problema tecnologico tecnico o quant'altro è un problema di carattere espressivo e da certi punti di vista non credo che ci saranno degli enormi cambiamenti nel senso che è un tutt'uno è un insieme insomma è un sistema di vasi comunicanti e di relazioni quindi per cambiare appunto ma questa cosa per esempio di fotografare in remoto cioè a me un po' lascia spaisata è vero che la fotografia è un medium che è ambiguo e cambia sempre e continuerà a cambiare però a me lascia spaisata fotografare in remoto è un'altra cosa ad avere una persona davanti no ma lo capisco bene a percepirla no ma momento l'auspicio non è fotografiamo in remoto è che dice e cambierà la modalità come lo smart working no ci saranno ci saranno dei servizi in remoto invece di andare a New York fotograferai da casa da Milano si ma può anche essere dipende da che cosa e come devi fotografare cioè ci saranno sicuramente allora sperimentato il fatto che puoi lavorare anche non nello stesso modo però attenzione anche in remoto ovviamente verrà usato il remoto non è tanto e vedremo come cioè in qualche modo la tecnologia assiste anzi non è che assiste determina i cambiamenti il resto dell'avviso che la fotografia alla quale penso io è una fotografia che è la necessità allora diciamola così uno può fare anche un percorso in remoto e coincidere perfettamente il prodotto con quello che è la sua visione dubito per quello che mi riguarda potrei farne uno ipoteticamente infatti ne ho fatto una cioè non è che ne ho fatte due milioni una ma questo per me non cambierà assolutamente come cambierà la fotografia nel suo insieme ti dico in relazione a quello che sarà il cambiamento se ci sarà o comunque è un vaso comunicante cioè è uno dei vasi comunicanti cioè il mondo o o o e questo muterà muteremo non muterà non muterà dal punto di vista espressivo sicuramente le cose invece come sempre i linguaggi insomma cambiano cioè e quello è un altro discorso e infatti noi invitiamo le persone ad esprimere con il linguaggio che vogliono come dicevamo prima per avere un'interazione maggiore perché comunque fondamentalmente tutti quanti abbiamo vissuto uno strato di emozioni molto molto forte e quello che ho vissuto io può essere molto vicino quasi similare un'altra persona perché è anche un modo per appunto non sentirsi soli c'è questa comunicazione di emozioni di pensieri che vanno oltre la mera esecuzione che potrebbe essere un video appunto una poichia proprio per farci avvicinare ancora di più non solo con la videochiamata che è stato questo mezzo blasonato ma un po' più profondo uno strato più profondo che entra anche nell'intimo che potrebbe essere appunto una foto potrebbe essere un disegno o comunque il racconto di un'emozione ma guarda che forse noi io credo che noi abbiamo un po' anche che forse questa è stata l'occasione per capire che ci sono delle condizioni no? di anche di pressione che possono attivare anche gli altri nostri sensi in generale e non di essere delle camere stagne no? e laddove ti trovi insomma in qualche modo pressato e condizionato le attivi e ci sono come dicevi esattamente ci sono delle situazioni che possono essere un'immagine una canzone un disegno ma anche un profumo potremmo dire sì anche un profumo anzi è il senso più sviluppato l'olfatto per cui cioè sulla memoria è il senso che sulla memoria ha proprio la maggiore percentuale di di penetrazione il ci sono questo accadeva anche prima solo che molti non se ne rendevano conto cioè quando uno dice ah come mi emoziona questa immagine questa cosa eccetera eccetera lo si diceva in un certo modo condividere invece una situazione che è comune cioè che quell'immagine lì ti fa percepire parlo di immagini perché ma qualsiasi altra cosa ti fa percepire questo a me è accaduto quando a distanza di anni io ho ritratto mio padre ed è un ritratto molto particolare no? gli avevano dato sei mesi di vita e io la prima urgenza che ho avuta è stato fotografarlo allora queste immagini e avevo l'intenzione di fotografarlo e io sono uno che se fotografare le immagini le usa non le immagini le mette nel cassetto e di fronte a quell'immagine a distanza anche di molti anni perché è accaduta quell'immagine l'ho fatta nell'ottocchio quell'immagine è questa qua di fronte a queste immagini qui ci sono state delle reazioni che sono quelle che dicevi tu prima nel senso che se un'immagine ha la possibilità di condensare delle esperienze però se ha la capacità di condensare una serie di questioni perché sono comuni perché moltissime delle persone che hanno visto quell'immagine vedono quella cicatrice si immagina tutto un percorso e molti hanno vissuto quella situazione lì molti io mio padre ovviamente l'ho perso quindi tutto tutto quello che è successo eccetera 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 è quello che dicevi se noi tutti abbiamo vissuto questa condizione questa situazione abbiamo vissuto tutti più o meno nello stesso modo diciamo i fondamentali erano uguali per tutti come si direbbe in termine sportivo quelli erano i fondamentali e tutti li abbiamo vissuti in questo modo qua con poi allora con delle sfaccettature che magari erano diverse via dicendo a seconda di dove ti trovavi tu individualmente la regione la quale ti trovavi insomma tutta una serie di cose però noi l'abbiamo vissuta tutti questa cosa qui e quindi è evidente che quello che può essere eventualmente prodotto in questo periodo può trovare degli elementi di comunione decisamente maggiori rispetto a quello che poteva essere la nostra capacità di intercettarli prima c'è da l'auspicio potrebbe essere che magari questa rivitalizzazione insomma anche dei sensi in maniera compreso l'olfatto appunto appunto e quindi anche qualsiasi cosa che abbia in qualche modo che partecipi in maniera più forte e più urgente a un piano relazionale con l'opera o con le persone con le quali senti di avere delle cose in comune perché se c'è una cosa davvero che mi ha insegnato questo periodo qui è che ho la certezza che alcune persone mi hanno fatto veramente schifo no cioè quindi ma ma ne ho visti anche colleghi cioè non e questo periodo qui mi è stato molto utile e altre persone che invece mi sono piaciute moltissimo quindi perché attivi sia in negativo che in positivo e secondo me se sei uno stronzo diventi più stronzo noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata grazie a voi mi ha fatto molto piacere grazie per la disponibilità grazie a voi pensieri è stato bello conoscere la tua persona a 360 gradi non proprio 360 però più o meno dalla tua arte alcuni lati lasciamo lì oscuri alcuni lati lasciamo lì oscuri perché poi ci sono sempre quelle zone d'ombra che sono veramente d'accordo che sono però è stato molto bello mescolare la tua arte con i tuoi pensieri e con la tua tecnica che come dicevi è molto importante ma quello è solo uno strumento no davvero è importante Marx diceva una cosa fondamentale chi conosce più parole ha più potere ora e mi sembra estremamente chiaro tutto qui ragazze buona grazie a voi e buona continuazione statemi bene grazie ciao grazie ancora ciao 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 Grazie a tutti.